Un Natale all'insegna della solidarietà alla Cappanina di Franceschi, il locale più rinomato della Versilia, che grazie alle iniziative del direttore artistico Maurizio Laudicino ha in programma due serate dedicate interamente al finanziamento della ricerca. Il 7 dicembre, con Natale a Farte dei Marmi, ci sarà il sostegno all'AIL per finanziare la lotta contro le leucemie, grazie alla vendita delle stelle di Natale. Il 15 dicembre sarà la volta di I veri eroi stanno con Teleton, in diretta su Rai 1, in concomitanza della Maratona Nazionale. Veri Eroi è un sito internet che nasce due anni e mezzo fa per raccontare e portare alla ribalta persone e associazioni italiane che fanno qualcosa di eroico nel sociale e nello sport. Ad oggi in due anni e mezzo su Veri Eroi sono raccontate 350 vite di queste persone comuni che però compiono qualcosa di veramente straordinario ed è un nuovo risultato perché in due anni e mezzo abbiamo sicuramente raccontato tante, tante, tante imprese. Altra idea non nata, ma in continua crescita, è Cappannina Creative Lab, cellula di marketing e comunicazione con progetti che vanno dal lancio di Web TV alla promozione del Made in Italy. per realizzare e creare una struttura che si offri di marketing e comunicazione in cui ingaggiando neolaureati in queste scienze per poter creare da una parte un prodotto dal punto di vista artistico che potesse essere coinvolgente e interattivo e le serate dedicate al cinema ad esempio di questo mese di novembre sono la prova del successo che stanno avendo e poi anche le serate che poi andremo a presentare ne sono anche il punto. Facendo così poi dopo questa cellula di marketing si ha l'obiettivo in qualche maniera di cavalcare l'onda di creare probabilmente l'onda ed eventualmente di crearsi anche, reagersi come è sempre stato a sparo del nightlife e in qualche maniera contribuire nel proprio piccolo a ricostruire per non male un'abitudine a venire in Versiglia e anche in periodi invernali dove ultimamente abbiamo visto sicuramente il mercato in attunno non sta avvenendo per cui comunicare a través di social network per lanciare una web tv per cui approfittare di tutti quelli che è la tecnologia tutti gli strumenti che la tecnologia ci dà per poter in qualche maniera sopravvivere e rilanciare la scommessa per cui questo è in qualche maniera Non solo divertimento dunque in capannina ma anche innovazione e solidarietà